Oh se faccia la combo che tipo stunni tutti e io lancio la mia ulti 30 minuti in totale perché cosa per farsi anche un caffè Bella ragazzi in questo video vi faccio vedere le nuove modalità su world eternal online perché nel weekend del 9 10 settembre c'è stata la possibilità di provare la nuova futura season Di world eternal online che è un gioco web 3 gaming mmorpg che molto probabilmente avrà tornei con premi in denaro a breve e potenzialmente gli nft all'interno del gioco Mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i video sul web 3 gaming perché in descrizione trovate la playlist di world eternal online ma su questo canale porto anche tanti altri giochi Entrate anche nel server discord di web 3 gaming italia dove troverete la community più grande italiana sui giochi del web 3 Ok ma adesso vi lascio al video Mi piace questo concept che devi farmare Tipo lol no? Sì però battle royale dove devi farmare Vero vero sì figo Ma si si combatte nella mappa enorme Però dopo si stringe Mi piace anche lo sprint come abilità molto forte Allora qui vedo qualcuno di fermo Io lo ammazzo Senza pietà Ti hanno ucciso? Contro i mob sono muoti Ah se muore sei fuori Eh sì Uccidere qualcuno non ti dà exp non è il massimo Non conviene uccidere Conviene tipo solo farmare e aspettare di beccare qualcuno Livellare 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 Secondo me questo va fixato perché sennò incentivi troppo a FK a farmare E poi solo quando si stringe picchiare Mentre se vuoi farlo un po' più Ogni quanto stringe Non lo so Non c'è un timer Eh anche questo effettivamente è una buona Oh È un buon feedback Cioè ci vorrebbe un timer Tra l'altro è sfasato questo con Oh oh forse no Sì Minchia se si stringe Cioè No dai Devo piottare Ecco la S Sì ma si stringe all'infinito O ero io molto lontano Eccolo Teaming Mi ricordo ai vecchi tempi di Brawl Stars Il Teaming Non so se riesco a fare il 4 Prima che si shrinki l'area Io volevo solo farmare in Santa Pace Sheriff uccidiamo l'altro E poi ce la giochiamo Ok io lo chiudo da su Oh oh Io vado a casa Guarda come piotta Il ragazzo Occhio che l'aria si sta Snitch in pitch Sheriff crash No che brutta fine Mi hai lasciato da solo Allora lui è al 3 Io sono al 4 Non ho la minima idea di che cosa facciano Ok Me la devo giocare Muovendomi Dare anche la possibilità di guardare La spettatore La fine della Della battaglia Come in altri Battle Royale Come fa adesso? Io sono morto Mi ha pensato fuori Interessante Continuare a seguire la battaglia Ce l'ho Ce l'ho Sì ma questo ripristina troppa vita Dai Scusami come fa ad essere un livello in meno E mi fa È illegale Sheriff mi ha droppato all'ultimo Ecco Ha acquittato anche da Discord Ho vinto No sono arrivato secondo Perché tu mi hai abbandonato Contro quello lì Che è sbroccato Quel personaggio Si curava Faceva danno Ed era un livello sotto di me Ok Basta che cammini Pian piano ci sono i musli Tu l'avevi mai fatta Barone questa? Sì l'ho provata oggi Solo che poi a metà Ho dovuto lasciare Cioè avevo ammazzato Il primo boss Il lupo elite Che figa la torretta È mia è mia Attira i nemici Quindi i nemici poi Attaccano la torretta E non attaccano te Geniale Questo li facciamo Secondo voi? Sì sì Ma tanto il boss Lo facciamo tutti No è fighissima Sta torretta Cioè è devastante Se taunta così Doveva conto Che il mio personaggio Ha pochissima energia Quindi Giustamente Compensa Con queste sfide Se faccia la combo Che tipo Stunni tutti E io lancio La mia ulti Facciamo il devasto Aspetta Prendiamo entrambi I gruppi E fai quella mossa Su tutti Oh mia che devasto Troppo forte Beh comunque è un bel cambiamento Rispetto alla season 4 Normale Ma infatti è Stramigliore Prima era molto più Bene queste modalità Queste modalità Queste modalità In team Così sono carine Vai fai mega stun Però la battle royale E' tosta Quindi c'è il timer Sopra Che se non ce la fai Entro 26 minuti Perdi Però c'è L'ultimo problema È solo il boss finale Non ce la Spero non sia tipo Quello di ieri Perché c'è La litbox Ma l'ex La prende Tutta quella del gruppo Perché io Sono il livello Più alto di voi Teoricamente Dove essere condiviso Poi non lo so Perchè la stun Questa Forse è l'abilità Del Ah è questa Fa stile Fa che finire C'è la borsa Di Come sai Eh ci vuole La tua torretta Quando affrontiamo I boss Sì Quanto tempo Hai di ricarica È una ulti O una abilità No no È La ulti Ah Ma ti ho furilato Eh ma è assurdo Wow Figo Questo Questo è un po' più scarto Rispetto a me Ma cioè Se Se uccidiamo questo Abbiamo vinto Sì Questo è l'ultimo Beh allora è Fai random 30 minuti in totale Per che cosa Per farci anche un caffè Oh Puoi morire Ecco Le ultime parole famose Fa una ai piccolini Anche Oh Oh Vieni qua Oh Aiuto 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 Vediamo Ok torretta Giochiamo attorno alla torretta la torretta è una bomba non voglio morire la cosa figa è che tempo completato dopo si dovrebbe far la gara chi ci mette meno ragazzi piccola considerazione mi sono veramente tanto divertito la battle royale è la mia modalità preferita secondo me è stra divertente non vedo l'ora perché ragazzi ve lo dico in anticipo poi non dite che non ve l'ho detto faranno tornei con premi in denaro e potrebbe esserci un torneo di battle royale dove il primo che arriva in classifica vince dei soldi che secondo me è un'idea geniale quindi mi raccomando entrate nel server discord di web3 gaming italia perché sicuramente quando verrà lanciato quell'evento faremo un annuncio generale ed iscrivetevi al canale per non perdervi il video dove farò vedere se ho vinto o sono arrivato top in classifica in quel torneo o tanti altri aggiornamenti sui giochi del web3 io vi consiglio di guardare la playlist che ho fatto su world eternal online perché ci ho fatto tanti video oppure il video che vi consiglio a youtube mentre scegliete quale guardare io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti.